All'emergenza Ventura è oramai abituato, ci ha convissuto per buona parte del girone d'andata ed ora in queste ultime settimane è suonato di nuovo l'allarme. La sfida con il Frosinone è dietro l'angolo e classifica la mano. In questo momento del campionato è una partita che vale un pezzettino di Serie A perché ricucire lo strappo di quattro punti o mantenere immutato il divario sulla seconda in classifica significherebbe restare prepotentemente in corsa per la promozione diretta, diversamente le probabilità diminuirebbero. Qual è la situazione attuale? C'è una certezza ed è quella legata ad HACPAC Pro che scontata la squalifica è di nuovo disponibile e per il centrocampo della Salernitana che naturalmente può fare affidamento pure su Capezzi, maestro di tac e chine per il ruolo d'interno è sicuramente una buona notizia. E poi potrebbe recuperare Cicerelli, il laterale alle prese con un colpo al ginocchio subito a Verona intensificherà in questi giorni il lavoro ma pensare ad un impiego da titolare sembra azzardato anche perché la Salernitana dovrà giocare come le altre della B tre partite in otto giorni. Cicerelli probabile, Cursio forse, Ertò da verificare ma difficile. Intanto però Ventura spera di non dovere fare i conti con altre defezioni. Domenica scorsa Migliorini è rimasto in panchina per motivi precauzionali mentre Giuric continua a giocare da qualche settimana con un problema alla pianta di un piede che naturalmente gli crea qualche fastidio di troppo. Ecco allora che Ventura dovrà valutare ogni cosa con attenzione, di concerto con lo staff sanitario consapevole che le scelte di formazione dipenderanno inevitabilmente dal recupero o meno di alcuni calciatori.